Ciao Glitters, oggi vi raccontiamo una nuova storia, una storia molto molto particolare perché ha in sé le nostre amate fantastiche principesse Disney che si troveranno in dei guai un po' particolari, ma non voglio raccontarvi niente perché seguite la storia e scoprirete che cosa succederà Oltre il fiume cosa c'è? Andiamo a vedere che tempo c'è fuori Ah perfetto, è uscita fuori, è il momento di chiudere la porta, finalmente avrò quello che merito E una vita che aspetto questo momento, la mia dolce tenera sorellina Pocahontas ha fatto fortuna, fama, amore, tutto grazie al film della Disney E di me che sono rimasta nel dimenticatoio e nessuno se ne è mai ricordato, ma perché io ovviamente sono solo la gemella di Pocahontas Già, ma questa volta la vita di Pocahontas sarà la mia Ehi, ehi ragazze, fatemi entrare, sono rimasta chiesa fuori casa Ragazze, sono fuori casa, sono qui, ah non mi sentono da fuori Ragazze, ah cosa posso fare, ah cosa posso fare, ragazze Non mi sentono, dovrò aspettare qui fuori Oh, guarda com'è tanto in bilico, tanti libri sulla mia testa Wow, bello, ma tra l'altro sembrano piuttosto storti Ah, la magia, è la magia che rende tutto così perfetto, è la magia Ma dove si è cacciata Pocahontas, è quasi l'ora del tè Ah, già, non è mai in ritardo però Pocahontas, starà dondolando su qualche albero, vedrai Arriverà molto presto, ne sono certa Già, intanto proviamo ancora il ballo, ok Eccomi ragazze, scusatemi per il ritardo ma ero a fare una passeggiata Ah, ciao Pocahontas, no non importa, non importa Però siamo felici che tu sia arrivata in tempo, è l'ora del tè, lo sai L'ora del tè? Oh sì certo, lo so, l'ora del tè Pocahontas, ma guarda che lo sapevi che era l'ora del tè Oh certo che lo sapevo, l'avevo solo dimenticato, nulla di che insomma Pocahontas, ti senti bene? Hai una strana voce Bellissimo Tu devi essere la famosissima cenerentola Tala wow, dal vivo sei ancora più Cosa stai dicendo? Volevo dire, niente, sto provando una nuova commedia Una che? Commedia? Non ne hai mai visto una? Insomma, sono stata presa per un nuovo film e devo provare a dire Che cos'è? Pocahontas, forse hai bisogno di una tazza di tè bella grossa O forse non hai bisogno affatto Hai qualcosa da dirci? No, no ragazzi, è tutto a posto, andiamo a berci questo tè Sono la principessa più bella del mondo E hai visto anche tu quello che ho visto io? Sì esatto, sembra che Pocahontas ne stia parecchio bene Già, ma... C'è qualcosa di strano sotto Ne sono sicura anch'io Il Pocahontas non avrebbe mai detto quelle cose È la principessa migliore del mondo Ma... Forse è il caso che... Di parlarle? Mmm, ma no, beh, l'aspettiamo Magari ha solo preso una botta Si, cadendo da un altro Magari dopo chiediamo anche a Jasmine cosa ne pensa Sono d'accordo Andiamo a prendere questo tè Ma di chi è questa cosa? Spostatela, è così brutta Non va messa mica a tavola Ehm, cosa? Ma quella è di Jasmine Ma che ti prende Pocahontas? Scusami Pocahontas, ma quella è di Jasmine? Ma quando mai tu avresti preso in giro Jasmine per un oggetto che lei ha? Ma, insomma, che ti prende? Ah, che mi prende, che mi prende, che mi prende Mi prende che non fate altro che rompermi le scatole Voi, principesse Disney, i vostri tupini, le vostre tazzine Ma tanto qui lo sappiamo tutti Chi è la migliore? È il momento che io me ne vada Ah, si comporta davvero in maniera strana, in effetti Ma ti sembra il momento di bere del tè, ma? Belle, ma ti rendi conto di quello che ha appena detto Pocahontas? Ma cosa l'hai preso? Non lo so, Cenerentola, ma credo che Pocahontas abbia qualcosa che non va Vuoi sapere cosa penso io? Io penso che Pocahontas non sia più Pocahontas Cosa vuoi dire? Ma, belle, secondo me, qui c'è qualcosa sotto Ciao ragazzi, eccomi Fatemi parcheggiare il tappeto, è solo da voi Eccomi, allora Dov'è il tè? Ah, non avete ancora preparato nulla Io avevo così tanta voglia di te Jasmine, su, tirati su Abbiamo cose importantissime di cui parlare adesso Di cosa abbiamo bisogno di parlare? Jasmine, Pocahontas ha qualcosa che non va Assolutamente qualcosa che non va Si è comportata in maniera tanto tanto strana Soprattutto dice cose strane Sì, Jasmine, Cenerentola ha ragione Pocahontas non sembra più Pocahontas E siamo preoccupate Non riusciamo a capire cosa le stia capitando Ma, ragazze, ma ne siete sicure? Non è che è solo una vostra impressione? No, Jasmine Va da Pocahontas e guarda cosa ti dice Poi torna da noi, magari Pocahontas, ciao Ma cos'è successo? Ah, hanno mandato un'altra delle loro Oh, le poverote nero in Jasmine Ciao, Jasmine Le tue amiche hanno mandato te da me oggi Pocahontas, ma cosa ti prende? Cosa mi prende? Vorrei essere io la principessa Più conosciuta dei bambini del mondo Vorrei essere io la migliore In fondo io sono un'euroina Voi cosa siete? Ma Pocahontas, va tutto bene Se hai bisogno di parlare io Ah, non mi toccare! Parlare, parlare, parlare Io ho solo bisogno che vogliono andare via Jasmine, per favore Lasciami in pace Ok? Il mio agente deve telefonarmi proprio adesso Tra l'altro Sto aspettando una grande chiamata, sai? Potrei diventare la principessa Disney Più famosa tra tutte Ma Pocahontas? Ah, ancora? Che... Non capisco Cos'è successo a Pocahontas? Oddio, ma Cenerentola è bella, hanno ragione Pocahontas è davvero strana Allora Jasmine? Ehm... Bell, ho visto Pocahontas Ma ha detto delle cose davvero terribili Te l'ho detto, Jasmine Te l'ho detto C'è qualcosa che non va in Pocahontas Vedi? Credo che... Le sia successo qualcosa di davvero brutto Non senti anche tu questa strana sensazione? Sì! La sensazione che qualcosa nella sua vita sia andato storto Che tutta la felicità sia sparita E che qualcosa le stia provocando tanto tanto dolore La trovo parecchia infelice Già, anch'io lo credo Lasciamola in pace però Ciao ragazze Cosa ci fate tutti qui? Non è l'ora del tè questo? Di solito vengo a rubarvi i tuoi biscottini Di quelli che prepara Cenerentola Ehm... Perché siete tutte qui? Ciao Baby Doll Abbiamo un grosso problema con Pocahontas Che tipo di problema? Ah, in effetti Pocahontas non è qui con voi Ehm... Avete litigato, forse? Spero di no No, 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 no Tutt'altro non abbiamo litigato Ma semplicemente Pocahontas Sss... È davvero stana oggi Non riusciamo a capire cosa le sia successo Ehm... Potrei provare a parlarle io Ma... Ci ho già provato Jasmine Tu sei tanto dolce ma... Non credo che potresti riuscirci Vabbè, tentare non nuace Ci provo ragazze Ah, d'accordo E tu chi saresti? Che strane bambine vivono in questo villaggio Ma Pocahontas Io sono Baby Doll Noi ci conosciamo Ci conosciamo Ah, già Baby Doll Ma scusami tesoro Ecco vedi Oggi sono un po' Con il cervello Un po' lì Un po' qui Quindi sì, scusami Non preoccuparti Mi ricordo di te Mi ricordo Pocahontas Ma Belle dice di sentirti un po' strana Sei sicura di sentirti bene? Mh, certo Non vedi quanto sono radiosa oggi? Sì, sei sempre bellissima Oh, noi siamo già migliori amiche Dai, vieni con me Ehm... Sono la principessa più bella del fondo Come fai a dire che io non stia bene? Ma Pocahontas Tu non dici mai cose del genere Ah, vabbè Oggi mi sono svegliata E ho deciso di esserla più bella Senti, bambina Ehm... Baby Doll Se sei venuta qui per farmi la predica Meglio che ritorni dalle altre Grazie Ma aspetta Pocahontas No Hanno ragione le ragazze Qui c'è qualcosa di davvero importante Che strano Pocahontas Non sembra più Pocahontas Ciao, Baby Doll Dove sono le principesse? Sono di lì A palazzo? Sì, sono dentro al palazzo Ma perché sei così triste? Ti hanno cacciata, forse No E no, ups Non sono triste per questo Ecco, vedi Quando sono arrivata Le principesse dicevano che Pocahontas Era un po' strana oggi Strana? Ma dai Al massimo Ci sarà dimenticata di andare a trovare Nonna Salice E sarà un po' triste Ma non strana No, no Anzi Sono sicura che Quella Pocahontas Non sappia neanche chi è Nonna Salice Ma cosa dici, Baby Doll? Ecco, ups Ho il presentimento che Lei non sia la vera Pocahontas La vera Pocahontas Ma cosa dici? Ma c'è solo una Pocahontas Come fanno ad essere quella vera? Non ti inventare queste storie No, ups Ascoltami Credi che sia stata una magia? No, insomma Non gridare Non voglio far preoccupare le principesse Però Ecco, vedi Credo che sia stata una magia O qualche incantesimo Che le ha fatto cambiare Tutta la sua memoria E la sua persona Ragazzi Ho parlato con Pocahontas Ed avete ragione Sembra davvero molto strana Eh, te l'avevamo detto Pocahontas è qualcosa che non va No, peggio ancora ragazze Io credo che Venite più vicine Cosa? Credi che non sia la vera Pocahontas? Shhh Non vorrei mica Fatti sentire da quella impostora Ma come fai a credere Che lei non sia la vera Pocahontas? Babydoll È davvero una cosa molto strana Non credi? Ce n'è solo una di Pocahontas Noi principesse Disney Siamo tutte certificate No, secondo me Qui c'è qualcosa sotto Jasmine Sono quasi certa Che quella Non sia la vera Pocahontas Anzi È solo un brutto brutto clone Ed è anche molto cattivo A quanto pare Beh ragazze Per quanto sia strano Babydoll non ha tutti i torti C'è qualcosa di Davvero molto 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 più Strano sotto E babydoll ha ragione Anche secondo me Lei non è la vera Pocahontas Sì Cenerentola Te l'ho detto C'è solo un modo Però adesso Per scoprire se lei È la vera Pocahontas Dovete farle delle domande Sulla vostra amicizia Sulla nostra amicizia? Sì ecco Vedi Dovreste chiederle qualcosa Che soltanto la vera Pocahontas Conosce di voi Oh Ci sono Come quando No Non devi dirlo Se si sente È finita Hai ragione Hai ragione Ora la chiamo Mi raccomando Ragazze Acqua in bocca Ok ok babydoll Ottima idea Bene ragazze Siete pronte? No 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 Ragazze Non è il momento Sì Ciao ragazze Babydoll Ho detto che mi cercavate C'è qualche problema Paura Bell Lei ci sta guardando Bell Sta zitta Potrebbe fulminarci con lo sguardo C'è qualcosa che non va a voi due? Insomma No Pocahontas È tutto a posto Stanno facendo anche loro le prove per quella cosa che hai detto tu prima Ah ok Molto strano Pocahontas ti ricordi quella volta in cui mi hai insegnato a salire sugli alberi? Sì Sì mi ricordo Ed eri anche molto brava a salire sugli alberi Ah ah Beccata signorina Io non sono mai salita su un albero Non lo farei mai Non ci potrei neanche riuscire E soprattutto Pocahontas non mi ha mai aiutato a salire su un albero Quindi tu chi sei? Oh io Ma cosa dice il genere? Tu non ti sarei dimenticata Forse sono io la vera Pocahontas Ah stai pur certa che tu non sei la vera Pocahontas Forza Dici dov'è la vera Pocahontas Ma io veramente Devo andare Devo andare Andare devo andare Oh aiuto Tu non vai da nessuna parte signorina Dici subito dov'è la vera Pocahontas Ma perché tutti avete questa strana storia in testa? Sono io la vera Pocahontas No Tu non sei la vera Pocahontas Ne sono certa Oh ma io veramente Devo scappare Stupide principesse Ehi ups L'hai fatta scappare? Sì se n'è andata No dovevi bloccarla Sono sicura che tornerà No secondo me non tornerà mai più Morirò qui sola Al freddo e al cielo Mi hanno lasciato tutta la giornata fuori casa Ma prima o poi qualcuno verrà ad aprire la porta Non è molto strano ma dove sarà Pocahontas? Oltre il fiume cosa c'è? Ma questa è la sua voce Ed è davvero lei Sono la vera Pocahontas Sa cantare così bene Oh baby doll sei tu? Pocahontas Ciao Eccoti dove eri Entra Sì mi avete chiusa fuori Ecco dove ero Sì entra un attimo però Chissà dove è adesso La nostra amica Pocahontas Speriamo che le stia bene Oh Pocahontas Finalmente ti abbiamo trovato Non immagini neanche quello che è successo Oh ciao baby doll Sono così felice che tu sia venuta finalmente ad aprirmi la porta Oh quelle mie amiche Mi hanno chiusa fuori casa E si sono dimenticate che non ho più le chiavi No Pocahontas Credimi è successo molto più di questo Molto più di questo? Cosa intendi? Oh vedi C'era un tuo clone Un tuo clone malvagio Che ha cercato di prendere il tuo posto Ma vedi era veramente strana Ragazze ecco Pocahontas Aspetta c'è una lentola Non possiamo essere sicure che sia la vera Vedo che ho ottenuto buoni risultati con i libri sulla testa Sei la vera Pocahontas Oh Pocahontas Che bello riaverti tra noi Credo che tu abbia una gemella Una che? Una gemella Ed è anche una gemella cattiva Ma purtroppo è riuscita a scappare Cosa una gemella? Sì mentre tu Tu dove eri tra l'altro Bene ragazze Finalmente il nostro party del tè può avere inizio Visto che non abbiamo la vera Pocahontas Venite anche voi lol Arriviamo E così le piccole lol e le principesse Disney Ritornarono felici Ma non troppo spensierate Perché sapevano che in giro Nei paraggi C'era ancora questa Pocahontas malvagia E chissà se scopriremo qualcos'altro su di lei Ma rimanete nel nostro canale Perché probabilmente scopriremo qualcosa Su questa gemella di Pocahontas E ricordatevi di cliccare qui Per iscrivervi al canale Ed invece Di cliccare qui Per guardare un nuovo video Noi ci vediamo nel prossimo E aiutateci a scoprire qualcosa Sulla gemella cattiva di Pocahontas Mi raccomando Ciao Ciao